E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi andremo a vedere come avere la dock che solitamente è presente su macOS anche su qualsiasi PC Windows. Difatti in questo caso, come starete vedendo, sono su un computer Windows, però ho anche questa dock in stile Mac. Per poterla installare, innanzitutto dovremmo andare a scaricare un programma. Ovviamente il link lo trovate qua sotto nella descrizione e vi si aprirà questa pagina. Quello che ci interessa a noi è il download, quello gratuito. Difatti va benissimo anche la versione gratis. Quindi cliccate su questo bottone blu di download, fate l'installazione, davvero molto semplice, e una volta installata vi dovreste ritrovare con qualcosa del genere. Come starete vedendo, questa dock all'inizio non sarà molto simile a macOS. Innanzitutto, vabbè, le animazioni le possiamo già lasciare come sono perché sono praticamente identiche a quelle di Mac. Mentre dovremmo andare a rimuovere alcune di queste applicazioni che vengono già aggiunte di default. Per farlo, molto semplicemente, vi basterà farci clic con il tasto destro, fate rimuovi dalla dock e scompariranno. Mentre se volete aggiungerne nuovi, anche lì sarà molto semplice, vi basterà prendere l'icona che vi interessa e trascinarla all'interno della dock. Ma quindi, detto questo, direi di tornare sul mio desktop per farvi vedere che impostazioni ho modificato per ottenere la dock in questo modo. Innanzitutto, una cosa che vi consiglio di fare è che se alcune icone non vi piacciono, potete tranquillamente cambiare icona e mettere quella che volete. Difatti, vi basterà farci il clic col tasto destro, sempre andare su proprietà e fare su cambio icona. Qua avremo alcune icone di default, comunque se cliccate su sfoglia potete scegliere qualsiasi file che preferite. Tuttavia, per modificare la maggior parte delle impostazioni, vi consiglio di andare proprio sull'icona di Nexus. In questo caso l'ho già cambiata con questa rotellina delle impostazioni, che è molto più carina, e vi basterà farci clic. Quindi andiamo subito a vedere le impostazioni che vi consiglio di cambiare. Nella prima sezione vi consiglio di lasciare sempre attiva mostra l'icona di controllo dock, così potete cambiare in ogni momento qualsiasi impostazione che vi interessa. La sezione moduli, vabbè, possiamo saltarla. Su posizioni, ovviamente vi consiglio di metterla su inferiore, ovvero qua in basso, poi ovviamente centrata, e l'altezza questa vedete un po' voi quanto metterla. E cosa importantissima, vi consiglio di mettere sempre in ultimo piano, se no la dock vi comparirà anche davanti alle altre applicazioni, e questo potrebbe dare fastidio. Su comportamento, per evitare di spostare la dock in giro, dovrete andare a mettere la spunta su Impedici di spostare la dock col mouse. Su Aspetto possiamo modificare le varie dimensioni delle icone, la loro distanza, quindi questo scegliete un po' voi in base a come preferite. Anche su Effetti è meglio lasciare com'è di default, dato che le animazioni, avrete già visto, sono identiche a quelle di macOS. Mentre su Temi dovremo andare a cercare questo qua, Windows 10 NX. Difatti è quello che si avvicina di più a macOS. Su Suomi, a meno che vi interessino, vi consiglio di disattivarli. Su Attività non c'è niente di interessante, quindi passiamo alla prossima. Mentre su Generale possiamo mettere, ad esempio, di avviare Nexus all'avvio di Windows, così ci comparirà appena avviamo il nostro computer. Se volete avere un desktop un po' più pulito, vi consiglio di nascondere le icone del desktop, come ho fatto io. Di fatti, dato che ora ho tutti i programmi e l'unica cartella che mi interessava su questa doc, non mi interessa avere doppi file o doppi programmi sul desktop. Infine, abbiamo anche il tab avanzate, ma in questo caso non ci servirà. Quindi una volta che avete sistemato tutto, vi basterà cliccare su Applica e potete uscire. Quindi, detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Noi ci rivediamo alla prossima e ciao a tutti! Noi ci rivediamo alla prossima e ci rivediamo alla prossima e ci rivediamo alla prossima.